Buonasera a tutti, solita location, luce peggio che peggio, però io è un diverso tempo ormai che ho finito, diversi giorni che ho finito il libro e ci tenevo un po' a chiacchierare con voi e quindi perdonatemi ma dovrete, se avete voglia, sopportarmi un po' così. Prima di parlarvi del libro mi piacerebbe, se non l'avete già fatto, splanarvi ad andare al cinema a vedere l'ultimo film con Daniel Day-Lewis cioè Lincoln, la storia sia riuscito a far approvare il tredicesimo emendamento riguardo all'abolizione della schiavitù. Allora io l'ho visto pochi giorni fa, due ore e mezza di film che passano così, attori bravissimi, naturalmente Daniel Day-Lewis strepitoso, riesce a comunicare non solo col linguaggio ma anche proprio fisicamente, bravissimo. Sally Field interpreta la moglie che è un'attrice piccolina di statura ma grandiosa nel modo di recitare, assistere alle scene che li coinvolgono entrambi, a me ha fatto venire la pelle d'oca. E strepitoso, simpatico, ironico, bravissimo e con una parrucca orrenda, Daniel Day-Lewis, Tommy Lee Jones, scusate ma quando ci penso mi viene da ridere, però ha interpretato questo personaggio in una maniera favolosa. Secondo me è un film da più di un Oscar, veramente è stato bello. A parte questo, andate a vederlo se non siete andati, volevo parlarvi dell'ultima lettura che ho fatto, grazie naturalmente perché me ne ha suggeriti talmente tanti con i suoi video, Zoom Books, in uno dei suoi video, se non l'avete visto andate a vederlo, ha parlato della Gang dei Sogni di Luca di Fulvio, in questo caso e anche nel caso suo è edito da Mondadori, al prezzo di 19 euro, ma non io, ma bensì come avete visto dagli scorsi video mia sorella, l'ha trovato a 9,50 euro sul libraccio e ha avuto una strafortuna, guardate come è bella la copertina anche dietro, edizione cartonata, l'unica cosa che voglio dirvi subito è di non leggere la seconda di copertina perché vi spiega troppo, ciò non toglie che in questo libro, scusate che mi prendo i miei soliti appuntini, in questo libro c'è veramente tutto quello che un lettore potrebbe volere da un libro, in questo libro troverete speranza, amore, violenza, me ne sono scritte, ho scritto un sacco di aggettivi, violenza, sesso, tragedia, gangster, sogni, occasioni, droga, vita, talento, e cambiamento, vi parlerò un pochino della trama per introdurvi nel libro, ma col solo e unico scopo che voi andiate a caccia di questo libro, perché veramente è introvabile, se lo trovate a prezzo intero prendetelo perché non ve ne pentirete, veramente vale i soldi che costa, se lo trovate in scambio, se lo trovate usato, tanto meglio, però cercatelo, leggetelo, e poi magari ditemi cosa ne pensate qua sotto, io come al solito ne sarei molto felice, cerco di spiegarvi senza spoiler, anche se all'inizio un pochino dovrò raccontarvi, ma sono veramente le prime pagine del libro, di cosa parla questo libro, allora, prima di tutto questo libro si svolge tra il 1906, dove comincia in Aspromonte, fino al 1929, dove finisce a New York, questo libro parla di Cetta e di suo figlio, che conosciamo all'inizio con il nome di Natale, allora, Cetta vive nel 1926, all'età di circa 13-14 anni, in Aspromonte, con la sua famiglia e con la madre che difende la figlia come solo un genitore potrebbe fare, la difende da chi? La difende dal padrone delle terre in cui lei e la sua famiglia lavorano, perché questo padrone si sente in toto proprietario non solo delle terre, ma anche delle persone stesse, e la stessa Cetta è convinta di questa cosa, tanto che purtroppo lei stessa ha subito quello che non vuole che sua figlia subisca, cioè la violenza dal padrone. Per fare in modo che questo non succeda, la imbruttisce, come la imbruttisce? Legandole una corda, facendo anche dell'altro, che non vi racconto, ma legandole una corda che le passa dalla spalla fino alla gamba, in modo da renderla zoppa e costringendola anche a zoppicare, dicendoglielo proprio, e anche un pochino storta per quanto riguarda le spalle. Questo difetto, anche se poi la corda verrà tolta, resterà incetta, specialmente per quanto riguarda la gamba, anche se lei ci riesce, cioè riesce nel tentativo di camminare più dritta che può. Quindi il padrone la vede brutta e perde interesse per lei e quindi la madre le toglie la corda e le dice di guarire, ma piano piano. Cosa succede? Che comunque il destino non è dalla parte né della madre di Cetta né di Cetta e la violenza lei la subisce lo stesso, la subisce da parte di un amico del padrone, che è zoppoc pure lui e la vede nel campo zoppicare e pensa bene di prendersi quello che non è suo. Quindi Cetta subisce questa violenza ed è una ragazzina e da questa violenza nasce Natale. Cetta ha dalla parte sua che non si pone la domanda del perché le succedono determinate cose e questo è la sua arma vincente. Lei è in un certo senso naturalmente ottimista. Non accetta però di vivere lì anche se la madre continua a dirle che loro, lei e tutta la sua famiglia sono proprietà del padrone. Lei questo non l'accetta e con le sue forze decide di partire per l'America. ci riesce. All'interno della nave dovrà purtroppo subire degli spiacevolissimi episodi ma terrà i denti stretti e per amore suo e di suo figlio prima di tutto riuscirà a sbarcare a Dallas Island. Non parla una parola di inglese e quindi non sa nemmeno dire rispondere alla banale domanda del come ti chiami. Finché giunge un Italo americano che in italiano le chiede di dire il nome suo e il nome del bambino lei dice che lei si chiama Cetta e il bambino si chiama Natale. Lui traduce Cetta con Cetta ma Natale lo traduce in Christmas e quindi d'ora in poi il bambino si chiamerà Christmas. Questo solidifica in lei l'idea che suo figlio dovrà essere americano in tutto e per tutto perché lei sa già che non potrà mai essere considerata un'americana. La loro vita d'ora in poi si svolgerà nel Lower East Side. Purtroppo lei dovrà accettare di fare la prostituta ma nonostante questo il suo ottimismo non cesserà e tutto quello che lei fa d'ora in poi lo fa per crescere il figlio come un americano e per realizzare il suo sogno attraverso la vita di Christmas ma senza imporre quello che lei vorrebbe. l'unica cosa che lei vuole e che dice a Christmas fin dalla tenera età è che lui è un americano e che deve crescere come un americano e quindi cerca naturalmente di farlo andare a scuola di fargli superare tutte le cose negative che possono succedere. A volte ci riesce a volte no ma dalla parte sua riesce a trasmettere a Christmas l'ottimismo e il credere nei sogni e nel poter avere una vita al di fuori della mala vita perché loro vivono nel ghetto che è un ghetto malavitoso lei stessa lavora per un bordello che è di proprietà di di malavitosi ma la vita di Cetta e la vita di Christmas è contornata dalla figura positiva di Sal che è sì un gangster però a loro farà solo del bene e Luca di Fulvio riesce a descrivere tutti i personaggi così bene che ti sembra veramente di vivere con loro quando tu chiudi il libro la loro vita si ferma in quel momento lì e quindi non vorresti mai chiuderlo perché non vorresti mai che loro smettessero di esistere in questo libro troviamo dei personaggi negativissimi come Bill che arriverete ad odiare fin nel midollo ma l'autore riesce a descrivere quello che succede a Bill è quello che Bill fa per imbruttire la vita delle persone che hanno a che fare con lui in una maniera perfetta direi troverete Ruth che entrerà nella vita di Christmas per sempre ci starà per sempre e entrerà in una maniera così violenta che vi lascerà veramente con gli occhi sbarrati e Christmas sarà parte per sempre della vita di Ruth e diventerà il suo appiglio la sua ancora il suo angelo custode nonostante lei cerchi di allontanarlo perché quello che lei subisce è così terribile per il suo fisico e per la sua mente che Ruth non si ritiene adatta a poter amare non vi sto raccontando niente che che possa essere in qualche modo uno spoiler però quello che voglio fare è cercare veramente di convincervi a leggere questo libro all'interno di questo libro si parla di razzismo non solo il razzismo dei bianchi contro i neri che in questo libro sono chiamati proprio negri ma anche degli ebrei ricchi contro gli ebrei poveri degli ebrei contro gli italiani e degli italiani contro gli ebrei si trovano frasi che ben descrivono quello che gli uni pensano degli altri io tra le tra le tante frasi me ne sono scritta una solo in realtà ve ne leggo solo un pezzettino che dice così i bianchi non sapevano cosa fosse e ai neri dava l'idea di mettergliela nel personalmente quindi veramente Luca di Fulvio usa un linguaggio non esattamente sempre scurrile ma lo usa nel momento in cui non potrebbe fare altrimenti quindi cercate questo libro leggete questo libro lasciatemi commenti c'è scritto che mi pare che sia scritto qui si aspettate che controllo nella quarta di copertina mi pare di si che i suoi libri perché ne ha scritti anche altri sono stati comprati dal cinema ritengo che se mai riusciranno a portare sullo schermo questo libro avranno veramente un bel lavoro da fare perché i personaggi sono talmente così ben tratteggiati che trovare degli attori che siano in grado sia fisicamente che con la recitazione di esprimere questi personaggi sarà gran difficile diciamo che io leggendo di Christmas in particolare se chiudo gli occhi con la descrizione mi verrebbe in mente un giovane Leonardo Di Caprio però con le lenti scure perché Christmas ha gli occhi neri però per il resto faccio molta molta fatica a trovare personaggi che potrebbero interpretare così bene questi personaggi cioè attori che potrebbero interpretare scusate così bene questi personaggi forse Sal potrebbe essere interpretato da Harvey Kittel spero di aver pronunciato bene quello di lezioni di piano per dire comunque ho finito di chiacchierare fatemi sapere cosa ne pensate e vi saluto ciao